Insomma ci si impegna sempre di più tra maggioranza che vota a favore e quelli che votano contro, insomma l'ultimo emendamento, la differenza era 40 voti. Sì, era anche meno secondo me, si fa guardare bene. Sì, il problema è che tiene solo l'accordo con Berlusconi, tutto il resto si sta un po' afflosciando. Mi pare che NCD abbia votato le preferenze a occhio, mi pare che il gruppo di centro Scelta Civica per l'Italia, gruppo di centro democratico abbiano votato a favore degli emendamenti delle preferenze, quindi contro tra virgolette l'accordo con Berlusconi. Quindi la verità è che il PD ha un accordo sempre più forte, dichiarato esclusivamente con Berlusconi, non con gli altri contraenti. Questo non lo nota nessuno perché è una brutta notizia da dare, ma io sono incaricato, sono dell'ufficio brutte notizie del PD e quindi gentilmente, visto che mi date l'occasione di farlo, ve lo dico. Nel PD c'è un prima però di scontro.